Buongiorno, in queste liturgie quotidiane continuiamo ad ascoltare i capitoli del Vangelo di Giovanni che raccolgono il cosiddetto testamento di Gesù, il discorso che gli ha fatto nell'ultima cena dopo la lavanda dei piedi e quindi testi particolarmente significativi per rivelare l'intimità del suo cuore e l'intimità del suo rapporto con il Padre. Oggi ascoltiamo dal versetto 26 del capitolo 15 al versetto 4a del capitolo 16 e nella sua parola che annuncia il dono del Paraclito Gesù chiama in causa i suoi discepoli, coloro che lo stanno ascoltando, coloro che hanno ricevuto il gesto dell'amore nella lavanda dei piedi appunto. Ad essi, così come fa lo Spirito Santo, chiede di dare testimonianza di Gesù stesso. Sono coloro che l'hanno conosciuto, che hanno condiviso con lui la vita, che possono testimoniare chi egli veramente è. Gesù in qualche maniera chiede aiuto per poter continuare la sua missione ed è molto toccante il fatto che da una parte è lo Spirito di Dio, quel Paraclito, il Consolatore, l'Avvocato che viene donato dal Padre attraverso il Figlio ad essere l'arma vincente per che questa missione d'amore non si esaurisca nel mondo. Ma lo Spirito non può agire senza l'aiuto di tutti noi, di coloro che siamo chiamati e rispondiamo con un sì alla vocazione di essere discepoli del Signore. Fa bene al cuore renderci conto di quanto Dio abbia fiducia in noi, ma rende anche responsabili e in qualche modo forse fa venire le vertigini, perché ci rendiamo davvero conto che senza di noi il Vangelo non può diffondersi su questa terra. E quanti uomini hanno ancora bisogno di sentire proclamata la parola e di vedere testimoniata la sua potenza. Anche quegli uomini che, Gesù lo sa bene, non accoglieranno la parola. Anche coloro che si macchieranno dei crimini di rifiutare e uccidere gli inviati del Signore. Gesù invita a non scandalizzarsi di fronte all'accoglienza violenta che subiranno anche tanti suoi discepoli, così come è capitato a Lui. Ma questo non scandalizzarsi significa anche mantenere il coraggio e la determinazione a continuare, nonostante la resistenza, a essere testimoni di quello che si è ricevuto come dono, l'amore sconvolgente di Dio, totalmente gratuito. Allora questo amore potrà piano piano penetrare anche i cuori delle persone che appunto si sono resi responsabili del rifiuto, che commettono crimini, che diffondono odio piuttosto che amore. Sì, questo Spirito Santo non vuole arrendersi, non si arresta e allora ecco che sempre di più in ogni luogo, anche dove imperia la guerra, anche dove c'è sofferenza grande, anche dove sembra essere tutto senza speranza, servono cristiani, discepoli di Cristo che non smettono di seminare amore, di inventare modi per portare l'amore, di essere creativi, instancabili e coraggiosi nel testimoniare fino alla fine l'amore. Che non siamo noi, chissà, a rompere questa catena, che possiamo piuttosto addormentarci anche ogni sera e poter dire oggi, Signore, la mia parte l'ho fatta per provare umilmente e coraggiosamente a testimoniare il tuo amore. Buona giornata.